Sabato prossimo 13 giugno alle ore 19 il professor Paolo Ascierto sarà ospite della BCC di Aquara presso la sede amministrativa a Capaccio Pestum. Sarà accompagnato dal professor Attilio Bianchi, direttore generale del Pascale di Napoli e dal professor Gerardo Botti, direttore scientifico della Fondazione Pascale. L'incontro si terrà all'aperto nell'ampio piazzale della banca nel rispetto delle misure di sicurezza Covid. Il professor Ascierto sarà insignito di un attestato di benemerenza come riconoscimento per le sue attività di prevenzione e ricerca e presenterà alla stampa e gli amministratori del Cilento i suoi progetti futuri nel campo della ricerca.